Neve Galle operativo estate e inverno con un unico impianto moderno che l'arrivo debba essere in cima al colle e non ci sono dubbi. Sulla partenza le ipotesi cominciano ad affollarsi e ritorna sprombattuto quella lato treviso nei confronti della quale c'è l'interesse di una cordata di imprenditori algerini che hanno messo sul piatto una cifra 7-0. Sul futuro del Neve Galle c'è comunque la disponibilità della Regione Veneto. Abbiamo dato tutta la nostra disponibilità ad assecondare il progetto che il Comune ha, quindi si parla anche di un rifacimento della funivia perché lì entriamo su questioni anche un po' tecniche ma diciamo che ce ne sono più di una e in realtà bisogna avere un ripensamento a 360 gradi al Neve Galle sia in ambito invernale ma anche in ambito estivo. I colloqui con il sindaco Oscar De Pellegrin e con l'assessore delegato Franco Roccon ci sono stati e proseguono. Le richieste economiche sono importanti e la Regione ha reso edotto Palazzo Rosso dei bandi che consentirebbero di recuperare finanziamenti. Ad oggi diciamo che non abbiamo parlato di cifre, cioè non ci siamo esposti come Regione nel dare delle cifre precise ma sicuramente un aiuto arriverà e soprattutto sarà spalmato negli anni. Ma la novità emersa dagli incontri fra il Comune e la Regione è rappresentata proprio dalla necessità di rivedere in toto l'assetto attuale del Neve Galle. E quindi anche di vedere magari di costruire un impianto unico e non più impianti perché poi anche la gestione ordinaria ha il suo peso, un unico impianto che arriva fino in cima ma soprattutto anche la possibilità di creare degli accumuli d'acqua, la Ghetti, tanto che prima parlavamo di siccità, che sono fondamentali anche per la produzione di neve. Si lavora perciò sull'ipotesi di un unico nuovo impianto con un comodo lago vicino. Nel frattempo c'è attesa per l'esito della gara che affiderà la gestione degli impianti attuali. Non sono a conoscenza di come andrà questo bando, chi vi parteciperà. L'importante è che ci sia la volontà da parte di qualcuno di andare in gestione perché gli impianti adesso sono di proprietà comunale e ci vuole un privato che dia la disponibilità a gestirli.